... Testa di Mandelli, ancora Lumezzane al minuto 33, la punizione calciata in anticipo, poi il tiro a botta sicura di Baraglia che mette in grande difficoltà... ... di questo match, ma prima ci sono altre emozioni in area bianco-rossa, guardate cosa deve parare Sportiello sulla punizione calciata da Marco Lini. E si propongono in avanti il ventiduesimo, il tiro ancora d'inglese, questa volta parato e bloccato a terra da Sportiello.